Musica Mentre fervono i preparativi per la 65esima edizione del Carnevale di Castrovillari, Re Burlone è in cerca della madrina che accompagnerà l'evento. Il concorso è riservato a ragazze residenti sul territorio nazionale di età compresa tra i 14 e i 23 anni. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 febbraio 2023 alla sede della Proloco di Castrovillari. L'evento di selezione si svolgerà il 12 febbraio. Alla vincitrice, che sarà incoronata madrina e testimonia del Carnevale per il 2023, andrà un premio di 500 euro in buoni acquisto. Da quest'anno si inizia una collaborazione con il concorso mondiale Grand International Calabria, responsabile regionale Mimmo Luzzi. La madrina eletta parteciperà di diritto alle finali regionali Calabria. La manifestazione, curata da Carlo Catucci, si terrà domenica 12 febbraio alle ore 21 al Teatro Sibaris. Ospite della serata è in giuria la musical performer ed ex amici Anna Franca Caruso. La madrina oscente, che consegnerà la corona e lo scettro alla nuova eletta, è Diana Nicoletti, all'epoca studentessa dell'Ipsia Leonardo da Vinci di Castrovillari, eletta nel 2020. Ed allora, a causa della pandemia, il concorso non si è tenuto.